Frank S.G.U., benvenuto a Cremona. Con che spirito arrivi in grigio rosso? Ho tanta voglia di dimostrare quelle che sono le mie qualità. Arrivo qua dopo un percorso in cui comunque ho avuto l'opportunità di mettermi alla prova nel campionato cadetto. Ho imparato molto negli ultimi due anni e anche nell'anno in cui sono stato in Belgio, quindi penso di aver accumulato abbastanza esperienza per giocarmi le mie carte. Parlavi della tua esperienza proprio in Belgio. Che cosa ti hanno dato quegli mesi trascorsi al Charleroi? Sono stati mesi complicati da un punto di vista perché era il primo anno in cui uscivo dal settore giovanile e non ho avuto la possibilità di giocare tanto, però a livello di intensità e fisicità sono stati dei mesi importanti perché mi sono giocato le mie carte in un campionato molto fisico e questo mi ha permesso appunto di portare a quello che avevo imparato lì, qua in Italia. Ora c'è la cremonese, questa grande sfida con la Serie A. Un saluto ai tifosi di grigiorossi? Un saluto ai tifosi della Cremo, ci vediamo presto allo Zini.